Effettivamente l'assenza della provincia di Chieti al tavolo istituzionale che si è svolto lunedì scorso in Prefettura con il Ministro all'Ambiente Andrea Orlando era una nota stonata. Tanto più che si affrontavano le problematiche legate alla nascita del Parco della Costa Teatina, nello specifico lo slittamento dei termini della perimetrazione. All'incontro erano presenti tutti gli interlocutori istituzionali dell'Istituendo Parco della Costa Teatina, scrive in una lettera indirizzata al Ministro il Presidente di Giuseppe Antonio. Mancava solo la provincia di Chieti e sinceramente non comprendo la logica di questa incomprensibile esclusione. Avremmo potuto e voluto dare, continua di Giuseppe Antonio, il nostro contributo e la nostra competenza ormai consolidata nella governance dell'area costiera, tanto più che abbiamo seguito sin dall'inizio, nel lontano 2001, la fase di programmazione del Parco della Costa Teatina, mettendo in campo le nostre competenze in materia di pianificazione di aria vasta. Inoltre, ricorda di Giuseppe Antonio, la provincia ha elaborato l'unico progetto speciale sul territorio costiero, la via verde della Costa dei Trabocchi, che tiene in debita considerazione l'istituzione del Parco. Evidentemente, continua ramaricato il Presidente nella lettera, non si è tenuto conto nemmeno del fatto che gli elaborati prodotti dalla provincia sono stati presi in considerazione anche per la formulazione delle proposte di perimetrazione del Parco finora avanzate. Ci si dimentica, sottolinea infine il Presidente, di chi ha partecipato attivamente con amministratori e funzionari a tutti i tavoli e a tutte le riunioni tecniche indette sul Parco, sia a livello ministeriale che locale, collaborando al fianco della Regione e coordinando i Comuni, garantendo puntualmente un confronto serio ed escludendo sempre estremismi e dichiarazioni roboanti solo per fare notizia e per rendersi pieni di sé.